parte adesso la partita godiamoci questi 90 minuti il possesso è la squadra di casa una rete rigore la palla arriva molto interessante palla scutata fuori non troppo bene però si lotta nella retezione tocco di mano non è segnato l'ambito la palla rimane lì attenzione l'occasione il tiro se vantaggi sulle regalarete è l'uno a zero subito di ruggieri al primo minuto di partita 1 a 0 della squadra di casa gol di ruggieri so bella la palla sull'auto di destra attenzione l'uno contro uno punta va sul destro la mette in mezzo il tiro la parata ed è il pareggio ed è il pareggio 1 a 1 il gol è di persone intanto è battuta l'azione non se ne sono accorti so in area di rigore si gira bella la giocata dentro l'area l'occasione tiro centrale occasione subito per passoni fa una bella finta vecchiarelli in un calcio vecchiarelli finta questo probabilmente da fallo non fischiato dall'abito allora curci per la ripartenza cercare sto so in uno contro due so so all'interno dell'area so chiuso benissimo benissimo sala la palla dentro a cercare so che fa la spizza pentimone la lascia lì fa vero non calcia che c'è un'occasione quando siamo al quindicesimo minuto con montalbano che la gira verso motta molta bella la pazziata adesso questa è un ottimo occasione pesenti c'è ancora motta che si fa vedere pesenti potrebbe anche calciare presenti non calcia allarga ancora sulla di destra palla all'indietro di nuovo la palla rimane lì e c'è il 2 a 1 2 a 1 ha segnato ha segnato montalbano montalbano ruggeri è partito pentimone bella la palla pentimone bello lo stop a rientrare poi ottimo la giocata per maffèi poi notta ma sul sinistro uno contro uno con di bartolo motta non ha uno sbocco motta se la gira che gol repitoso di notte al trentesimo minuto di bartolo allunga bene cerca la palla lunga per campanella che si segna per tenerla e lo fa ottimo la palla dentro per persone anticipato passoni stoppa non calcia palla bellissima per so ed è subito il gol del 3 a 2 il movimento dei suoi compagni ma ce n'è poco al momento loro lancia lungo sempre alla ricerca della solita sponda di so bravo nella giocata poi persone allarga per campanella bella la palla dentro per so mamma mia che gol ancora di so però curci non può arrivare palla sbagliata all'indietro e allora riparte sala dentro ancora per so bella la giocata persone ci prova e questa è una occasione è tanto occasione parte adesso numero 10 che cerca l'area di rigore questa è un'occasione gira palla molto bene per malanga che ha spazio prova addirittura al destro ed eccola qui la prima occasione monta il banno del della rimessa laterale che batte subito palla dentro questo è il gol del 4 a 3 pesenti il numero 9 grandissima giocata vecchiarelli dentro adesso per motta con un po di spazio motta motta non cross dentro per vecchiarelli gran giocata poi palla indietro per il tiro di meda e questa è una bella occasione palla lunga persone la mette giù bellissima la giocata persone il cross in aria per archenza questa però era una bella occasione si incarta però riesco a giocare per eberini giocata dentro malanga però sbaglia allora visigalli col sinistro dentro palla troppo lunga la palla arriva su vecchi sul secondo palo c'è marotta che si fa vedere è servito marotta centrale però è una buona occasione era stato la segnalazione recupero ma era di quattro minuti quindi siamo a metà del secondo l'era dentro la palla per franceschinis in extremis franceschinis franceschinis fuori di niente fuori di niente fuori di niente al 90 duesimo minuto so la mette giù l'angla lascia lì ed è finita la partita finisce qui la partita 4 a 3 per la trebigliese che trova una vittoria fondamentale su un campo difficilissimo partita veramente bellissima una lotta continua fino al novantesimo minuto grazie